E vicino a casa mia c'era una curva pericolosa e c'erano un sacco di incidenti perché le macchine uscivano fuori strada. Allora ho pensato, mi metto sulla curva e indico che è pericoloso e magari qualcuno mi dà una mancia o qualcosa. E mi sono messo sulla curva con un cartello così. Anzi, la curva era dall'altra parte. Ogni tanto qualcuno si fermava e mi dava 1.000-2.000 lire e mi ringraziava. Dopo è finito tutto un sabato sera che un ubriaco è uscito fuori strada e hanno dato la colpa a me e mi hanno arrestato. Mi hanno detto ti sei mosso. Buonasera. Grazie.